Tragedia all'alba, muoiono due ragazzi, terribile incidente sulla Adriatica, tra Petacciato e Montenero una panda finisce contro il guardrail che la sventra, deceduti sul colpo due giovani di vasto di 21 e 22 anni, altri due feriti. Referendum costituzionale, il ministro a Termoli, Maria Elena Boschi, in città per parlare della legge di riforma che porta la sua firma ad accoglierla, oltre ai vertici del PD e le istituzioni, anche il comitato del NO che la contesta. Dopo gli attacchi il parroco si scusa, aveva scritto frasi offensive contro gli islamici sul suo profilo Facebook, poi oscurato. Don Pasquale Giampaglia da Forli del Sagno ha ritrattato tutto, ho sbagliato, ha ammesso. L'annuncio del sindaco presto, derattizzazione, entro fine mese a Campobasso la pulizia nei quartieri, dopo le segnalazioni di via Tiberio e di altre strade, Battista accelera i tempi, da domani parcheggi più cari. Benvenuti al nostro telegiornale, la cronaca con il drammatico incidente avvenuto questa mattina all'alba sulla statale adreatica tra Petacciato e Montenero di Bisaccia, un'auto con quattro persone è stata trapassata dal guardrail per due giovani di 21 e 22 anni di vasto, non c'è stato nulla da fare, ferite le altre due persone che viaggiavano sulla Panda, i particolari e le immagini agghiaccianti nel servizio di Fabrizio Eccionero. Stavano tornando a casa all'alba dopo aver passato una domenica di festa a ricevimento di un matrimonio, quando per cause da accertare è avvenuto lo schianto sulla statale 16 tra Montenero di Bisaccia e Petacciato. Il guardrail ha sventrato la Fiat Panda sulla quale viaggiavano quattro ragazzi squarciandola per oltre 20 metri. Per due di loro che da una prima ricostruzione si trovavano sul lato destro non c'è stato nulla da fare. Domenico Castrignano e Andrea Marinelli, poco più che ventenni residenti a Vasto, sono morti nell'impatto. Gli amici tra i quali il ragazzo alla guida dell'auto si sono salvati e sono stati trasportati sotto sciocchi in ospedale in condizioni non gravi. Una scena terribile agli occhi dei soccorritori che intorno alle 4 del mattino sono intervenuti sul posto, le ambulanze del 118 della Misericordia di Termoli, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per consentire le operazioni e rimuovere il guardrail da ciò che resta della Panda è stata necessaria un autogru. Sul posto il medico legale da Foggia per gli accertamenti sui corpi delle vittime e i comandanti delle compagnie dei carabinieri di Termoli e Vasto che hanno avviato le indagini con la stazione di Montenero. Un giorno di festa finito in tragedia, Domenico e Andrea erano molto conosciuti nella cittadina abruzzese. Andiamo a Termoli dove oggi è arrivata Maria Elena Boschi per parlare del referendum sulle riforme alla Costituzione, ad attenderla i vertici del Partito Democratico e le cariche istituzionali e politiche, ma anche un drappello di contestatori del Comitato del No. Sentiamo ancora Fabrizio Eccionero. Entra nel vivo la campagna per il referendum confermativo in programma in autunno. Per sostenere le ragioni del SIA a Termoli è arrivato proprio il Ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi, un incontro organizzato nella Sala del Cinema Sant'Antonio dove sono intervenute le autorità regionali e locali per un confronto sulle novità e i temi della riforma firmata dal Governo Renzi. Non si tratta, affermato il Ministro Boschi, di un voto sull'operato dell'esecutivo, ma di una scelta che riguarda tutti i cittadini. Per avere un'Italia più forte abbiamo bisogno però anche di una nuova Costituzione che ci consenta maggiore stabilità, maggiore semplicità e uno Stato che funziona meglio. In questo senso dire sì al referendum, dire sì alle riforme, dà anche al nostro Paese la possibilità di essere più moderno e più credibile. Riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione, competenze, Stato e Regioni sono alcuni dei contenuti del referendum. Sono intervenuti tra gli altri il Sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, la Segretaria regionale del PD, Michela Fanelli, il Governatore Paolo Frattura e la Deputata Laura Venitelli che ha rivendicato il lavoro svolto. Interventi da parte del Presidente del Comitato Molisano per il Sì, Marcello Palmieri, di Mauro Natale di Confindustria, di Tommaso Giagnacovo per la Coldiretti e di Nancy Rossi, imprenditrice termolese in Canada. Il Ministro Boschi si è soffermato anche sul futuro delle autonomie. Sappiamo che il Governo sta chiudendo, ormai ha praticamente definito l'accordo anche con il Molise per il patto per il Molise e quindi presto verrà firmato anche l'accordo con la Regione Molise, sempre nei patti per il Mezzogiorno. Per le riforme costituzionali il Molise mantiene anche dopo la riforma costituzionale la propria rappresentanza in Senato e la propria rappresentanza alla Camera, quindi non viene alterato il peso del Molise in Parlamento. Io credo però che avere una riforma che chiarisca meglio cosa fa lo Stato, cosa fanno le Regioni, magari anche riducendo qualche potere delle Regioni che crea più complicazioni nei certificati, nei permessi. La complicazione per i cittadini, per i lavoratori, per gli imprenditori nel rapporto con 20 legislazioni regionali diverse possa aiutare tutti anche a crescere di più economicamente. In Piazza Sant'Antonio anche il Comitato per il No al referendum. I rappresentanti sostengono che queste modifiche andranno in sostanza a diminuire le regole della democrazia, non elimineranno i privilegi e non abbasseranno i costi della politica. La Costituzione va mantenuta così, secondo i promotori del No, per salvaguardare il lavoro dei padri fondatori. Anche Clemente Mastella, neoeletto sindaco di Benevento, ha partecipato alla presentazione in anteprima nazionale a Pozzilli di Siamo Italiani, il nuovo movimento politico creato da tre europarlamentari, tra cui Aldo Patriciello. Per noi c'era Enzo Di Gaetano che ha intervistato proprio Mastella. Sentiamo. Anche Mastella, ex ministro della giustizia, ex leader nazionale dell'Udeur, appena eletto sindaco di Benevento, ha Pozzilli per la presentazione di Siamo Italiani. Un'occasione imperdibile per avvicinarlo ed ascoltarlo sulla sua vittoria elettorale, a dimostrazione che spesso il vecchio in politica può anche essere un fattore vincente. Siamo stati una cosa, diciamo, incredibilmente eccezionale, impensabile in molti aspetti, la proporzione in cui si è tramutata la vittoria. A fronte di un potere diffuso, di una cultura laico-massonica che prevedeva la mia città, c'è stata questa forma di esplosione e di considerazione attorno a quello che ho tentato di proporre alla mia gente e il risultato è stato favorevole. Il vecchio dirà sempre. Ma dirla così diventa anche un po' diverso. La mia opinione è che quando c'è una forma di partecipazione ai problemi della gente e la gente ti ritiene un riferimento reale, allora il dato elettorale scatta perché oggi nessuno più è partecipe di questa storia, di drammi e ha anche un minimo di speranza a parte della gente. E questa è la crisi dei partiti, per cui non si ritrovano più e la gente non si ritrova in loro. Questo è capitato dimostrando indifferenza al voto, scivolamento verso l'anausia al voto, non partecipazione e dall'altro invece magari una scelta che sia quella di dire scegliamo in controtendenza. E credo che i risultati più clamorosi sono stati in questa circostanza le due donne elette di 5 Stelle e io dall'altro lato. Cioè io che dovevo essere rottamato, sono stato il rottamato che ha rottamato i rottamatori. Mastella, lei è esperto di governi che cadono. Secondo lei arriva Renzi a mangiare il panettone? Ma questo non lo so, cioè dipende in parte dal referendum, perché ho visto che Renzi che si era bloccato sull'idea di non cambiare l'italico, ora inizia a cambiare, a pensare di cambiare anche l'italico, quindi secondo me questo può sbloccare la situazione. Io penso che sblocchi la situazione, anche perché lui si ritrova con la sua realtà parlamentare perché è diversa dal PD e è diversa anche da quella che è la concezione parademocristiana. Però gli altri partiti, vede queste cose qua, si muovono in maniera sconnesse, sghemba, ha la NCD, quell'altro, sono partiti parlamentari che non esistono in realtà territoriale, quindi appena vai al voto, come si è visto dalle comunali, non esistono. Non puoi vivere con i partiti parlamentari, perché poi alla prima occasione pubblica l'esito è disastroso per chi si accoppia con loro. Brusco dietro fronte il parroco di Forli del Sannio, Don Pasquale Giampaglia, che ha chiesto scusa per quanto scritto su Facebook contro l'Islam dopo gli attentati di Nizza, ritrattando il contenuto, il suo profilo è stato chiuso dopo le segnalazioni di alcuni utenti. Sentiamo. Su Facebook si era scatenato il putiferio dopo le esternazioni di Don Pasquale Giampaglia e il 44enne parroco di Forli del Sannio. Questi islamici non li sopporto e mi sono intollerabili. Se fosse americano voterei Trump, aveva scritto a poche ore dalla strage di Nizza frasi che hanno fatto il Giro d'Italia. Frasi dette da un uomo di chiesa, quella chiesa rappresentata da Papa Francesco, che parla sempre di accoglienza, rispetto e tolleranza. Tanti like al post del prete, tra cui il plauso del leader della Lega Nord, Salvini, ma tante anche le critiche e lo sdegno, questo prima che il profilo di Don Pasquale venisse chiuso, segnalato da qualche utente. Lo stesso parroco nei post successivi si era assunto la responsabilità di quanto affermato, invitando chi si sentisse offeso a rivolgersi alle autorità ecclesiastiche, passata qualche ora il netto dietro fronte del sacerdote originario di Castellammare di Stabia. Scusa, pentimento, ha ritrattato la frase in cui affermava di quel dovere ed ufficio che l'avrebbe costretto a parlare sempre di tolleranza e quella pesantissima di essere felice di venire definito razzista. Frasi da brividi in bocca a chi dovrebbe essere il tramite del messaggio di Cristo, del Vangelo che parla di amore, perdono, fratellanza e mai di generalizzazione. Insomma, Don Pasquale ha innestato la retromarcia e in maniera brusca ha cercato di rimettersi in carreggiata, ma il buco pare più grande della toppa. Ad ogni modo, il prete ha detto di aver scritto quelle parole su Facebook di getto, sull'onda emotiva, vedere quanto accaduto a Nizza, i morti, i bambini, mi ha profondamente turbato, ha aggiunto, tanta atrocità, ho fuscato la mia ragione, il cuore, ho dato libero sfogo alla rabbia, sono stato impulsivo e imprudente, ho usato un tono inaccettabile. Quindi le scuse agli internauti e soprattutto agli islamici. Sono convinto che vada condannata la violenza dell'Isis, ha detto ancora Don Pasquale, e non l'Islam, che è una religione di pace. Quello che ho scritto non corrisponde al mio pensiero di sacerdote né al mio cuore di cristiano e sento miei i sentimenti di tolleranza e fraternità. Poi il passo indietro sulle frasi più dure, affermando di riconoscersi lontano dall'essere razzista. Don Pasquale Giampaglia ha concluso il mea culpa dicendo che nella sua vita ha avuto modo di accogliere fratelli di ogni confessione religiosa. Resta il fatto che spesso le parole feriscono come le armi e sui social possono avere un effetto devastante. Un uomo di 70 anni di agnone è morto in seguito a un incidente domestico. L'anziano era assalito su una scala di ferro per effettuare alcuni lavori di riparazione al tetto del garage di casa sua, probabilmente a causa di un malore. Ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo la testa a terra. Ora è inutile il trasporto in ospedale. Dopo l'accertamento della morte il corpo è stato restituito ai familiari. La riforma della geografia giudiziaria non è una priorità del governo. Lo ha ribadito a Termoli sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli parlando del rischio soppressione della Corte d'Appello e dei progetti realizzati al carcere di Larino. Una visita in Basso Molise dove resta alta l'attenzione sul mantenimento dei presidi giudiziari come il Tribunale di Larino. Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ha incontrato la direttrice del carcere Rosa Laginestra confermando l'impegno e la sensibilità mostrati in una struttura che continua a promuovere numerose attività. Ho trovato una realtà molto positiva grazie al lavoro e l'impegno della direttrice e di tutto il personale della Polizia Penitenziaria e dell'area degli educatori. È una struttura nella quale c'è un grande lavoro sulla formazione dei detenuti. Ci sono diversi detenuti che studiano all'Istituto Agrario, all'Istituto Alberghiero e anche alcuni detenuti che studiano per conseguire la laurea. Io credo che questa sia la strada giusta. Il sottosegretario ha incontrato anche il sindaco di Termoli, Angelo Sbrocca, che ha ribadito la necessità di mantenere il Tribunale Frentano, l'assessore regionale Vittorino Facciolla, altri amministratori locali e l'imprenditore Nicola Cesare. In merito al rischio soppressione della Corte d'Appello di Campobasso e alla riforma della geografia giudiziaria, la senatrice abruzzese ha risposto così. In questo momento c'è una commissione che ha lavorato, ed è la commissione Vietti, che ha proposto una nuova riforma della geografia giudiziaria con nuovi parametri e nuovi riferimenti. Ora questa riforma deve essere discussa soprattutto dal Parlamento e quindi sarà il Parlamento chiamato ad esprimersi. Io credo che ci siano tempi piuttosto lunghi perché ora il nostro Parlamento è impegnato su riforme molto importanti che sono la riforma del processo penale, la riforma del processo civile e la riforma delle procedure concorsuali. Quindi questo non è un argomento in questo momento all'ordine del giorno, quindi ci saranno tutti i tempi per discutere e per approfondire. Nulla di fatto non si è conclusa come i sindacati speravano la trattativa con il Ministero dell'Istruzione sull'assegnazione dei docenti dagli ambiti territoriali alle scuole, la cosiddetta chiamata diretta. Lo stesso Ministero ha spiegato la CGL e ha presentato diversi requisiti nazionali da cui le scuole avrebbero dovuto indicarne quattro. Secondo il sindacato però non avevano alcun riferimento alla concreta attività didattica, culturale e pedagogica dei docenti. In sostanza, ha continuato la CGL, si è voluto lasciare alla massima discrezionalità dei dirigenti la scelta degli insegnanti, cui assegnare gli incarichi riducendo al massimo l'utilizzo dei punteggi per il sindacato e il Ministero è l'unico responsabile della rottura delle trattative con il rischio adesso di determinare conflitti e contenziosi. In Molise, ha ricordato la CGL, sono 600 i docenti che attendono di sapere a quale ambito nazionale sono stati assegnati e in che modo verranno individuati nelle scuole. Dopo le numerose diverse segnalazioni e lamentele per i top in città, il sindaco di Campobasso Antonio Battista informa che a giorni sarà assegnato il servizio di dirattizzazione che dovrebbe essere effettuato a partire da fine mese e comunque non prima di dieci giorni. Da domani attivi anche i nuovi parcometri e le nuove tariffe a rialzo in alcune vie. Sentiamo. Le lamentele per la presenza di top in diverse zone della città sono tante e tante le segnalazioni a Campobasso, soprattutto nelle aree verdi dove la vegetazione è cresciuta in maniera selvaggia e i residenti denunciano scarsa pulizia e manutenzione non ultime le proteste nell'area intorno a Via Tiberio in cui i ratti, hanno detto i residenti, sono entrati anche nelle case. Ci sono buche nell'asfalto, erbaccia ai lati dei marciapiedi e il parchetto è impraticabile. Lamentele anche per i parcheggi selvaggi, segnaletica, terra quasi invisibile, pericolo per i pedoni ma anche per una raccolta rifiuti a Singhiozzo. I consiglieri Pilone e Cancellario hanno annunciato che porteranno gli argomenti contestati in aula a Palazzo San Giorgio. Il sindaco Battista, interpellato sul punto, fa sapere che si sta procedendo con il taglio dell'erba nelle diverse zone della città e la prossima settimana si opererà in Via Tiberio e Via Limitrofe sulla derattizzazione, ha poi aggiunto. Nei prossimi giorni saranno aperte le buste e sarà poi assegnato il servizio che entro fine mese dovrebbe partire, comunque non prima di dieci giorni. Intanto le annunciate novità per le soste a pagamento saranno attive da domani quando sarà possibile inserire nei nuovi parcometri, al momento del pagamento, la targa del veicolo che verrà stampata su ticket da esporre sul cruscotto dell'auto. Sempre domani entreranno in vigore anche le nuove tariffe per la sosta blu in alcune zone del capoluogo. In sostanza un aumento si passa da 50 centesimi a un euro l'ora, con un minimo di mezz'ora su Via Cavour, Scalo Ferroviario, Piazza Cuoco, Via Veneto, Via Zurlo, Via Umberto. Proseguono i controlli dei carabinieri in tutta la provincia di Isernia per garantire sicurezza ai residenti e turisti militari delle stazioni dei nuclei operativi e radiomobile delle compagnie di Isernia, Agnone e Venafro, insieme a quelli del nucleo investigativo, hanno pattugliato il territorio. Nell'ultima settimana sono stati arrestati due pregiudicati ed emesse denunce o misure di prevenzione nei confronti di 29 persone per reati di vario genere. Nelle ultime ore diversi controlli di macchine automobilisti, 11 le violazioni al codice della strada, riscontrate tre veicoli sequestrati, 10 gli alcol test eseguiti, 7 i controlli amministrativi e igienico-sanitari in locali di intrattenimento. A partire da quest'anno sarà intitolata Carmine di Vincenzo, sindaco di Chiauci prematuramente scomparso un anno fa, la rassegna regionale di Serenate Antiche in programma a fine mese a Rionero Sannitico il servizio. Carmine di Vincenzo non si limitava ad apprezzare le tradizioni popolari, le promuoveva attraverso i suoi scritti, le teneva in vita partecipando attivamente alle manifestazioni organizzate nella nostra regione. Da poco eletto sindaco di Chiauci, insieme al gruppo dei cantori del suo paese, un anno fa volle partecipare alla rassegna di Serenate di scena a Macchia Godena, dove purtroppo il suo cuore smise di battere. Proprio per ricordare una persona così profondamente legata alle proprie radici, da quest'anno l'Associazione dei Borghi d'Eccellenza del Molise ha deciso di intitolare a lui il concorso Affacciati alla finestra Bella Mia, un riconoscimento molto apprezzato dai familiari di Carmine di Vincenzo. Bella emozione, fra qualche giorno è un anno che ci ha lasciato Carmine, partecipando a questa manifestazione che l'anno scorso si è tenuta a Macchia Godena e purtroppo è stata la sua ultima serata rappresentativa per la sua vita e la sua esistenza. Lui ci teneva molto a queste tradizioni, soprattutto alla cultura popolare, non solo di Chiauci, di cui era il portavoce sia dell'amministrazione ma anche del gruppo folcloristico che ha partecipato alla scorsa edizione della manifestazione. Quindi titolargli la manifestazione è un enorme piacere anche perché appunto, ripeto, per lui è sempre stato un grande obiettivo quello di poter portare avanti e diffondere la cultura popolare. La rassegna delle serenate antiche si terrà il 26 luglio a partire dalle 18 a Rio Nero Sanitico. È stato detto durante la conferenza stampa di presentazione organizzata a Chiauci. Vincendo Rio Nero, chiaramente a Rio Nero si terrà la rassegna di quest'anno. Quest'anno sarà una rassegna straordinaria, non solo perché è intitolata Carmine di Vincenzo, ma perché quest'anno finalmente l'abbiamo ampliata anche al di fuori del Molise. Ci saranno gruppi che verranno dalla Campania, gruppi che verranno dal Lazio, gruppi che verranno chiaramente dal Molise ma anche dal vicino Abruzzo. Non deve morire, è una tradizione straordinaria, una tradizione che rende omaggio ma soprattutto rende giustizia a un Molise che sta morendo. Io faccio un appello, faccio un appello soprattutto ai sindaci e ai piccoli comuni, non fate morire le tradizioni perché morendo le tradizioni i comuni piccoli sicuramente non potranno più sopportare una tavica dormienza del Governo centrale che sta distruggendo, depauverando quello che effettivamente è la tradizione popolare. Per la prima volta sarà il peschereccio Nuovo Condor a portare la statua di San Basso durante la processione in mare del prossimo 3 agosto. Va stabilito il sorteggio che non si è svolto in piazza Duomo ma in cattedrale a causa del maltempo. Come da tradizione il nome della barca è stato estratto dopo la scritta Viva San Basso tra gli applausi del pubblico e l'entusiasmo di Carlo Smargiassi e della sua famiglia. Le autorità saliranno invece a bordo del Miante mentre la banda sul Nuovo 30 Carrini. Il sorteggio che ha coinvolto 11 pescherecci si è svolto alla presenza delle autorità religiose, civili e militari e dei rappresentanti della marineria termolese. Preparativi agli sgoccioli agli Elsi per la festa di Sant'Anna. I carri e le trecce sono in fase di ultimazione e l'entusiasmo delle persone è palpabile. Ci racconta tutto Valeria Farina. I preparativi fervono, la festa si avvicina e i devoti di Sant'Anna sono tutti al lavoro. Manca ormai poco al 26 luglio, festa di Sant'Anna copatrona di Elsi. I carri sono quasi pronti, le trecce anche, il comitato festa ha già iniziato ad addobbare il paese con quelle che sembrano vere e proprie opere d'arte fatte con le spighe di grano. Siamo giunti in prossimità della festa e devo dire che appena dopo la mettitura è distribuito i vari comuni nei vari cantieri agli Elsi, sono circa 8 cantieri, devo dire che la gente si è messa veramente, la comitata di Elsi intera, l'intera comitata di Elsi si è messa subito al lavoro. Devo fare un ringraziamento a tutte le persone, penso che alla fine anche quest'anno sarà una grande manifestazione, una bellissima festa. L'invito e l'annuncio che voglio fare per tutti coloro che amano questo tipo di manifestazione e tradizione di venire qui a Elsi il giorno del 26 luglio perché sicuramente rimarranno soddisfatte per le opere d'arte che riusciranno a vedere qua che sfileranno per la sfilata. La scuola delle trecce con i bambini delle elementari e la scuola del carro con gli alunni delle medie, come ogni anno ritagliano uno spazio a sé. Quest'anno i loro carri richiamano un progetto fatto a scuola durante l'anno scolastico. Abbiamo fatto leggere ai ragazzi dei libri e quindi loro sono in effetti molto preparati insomma su questi libri che poi hanno realizzato nella scuola del carro. Quindi la scuola del carro è stata una prosecuzione di un lavoro già svolto durante tutto l'anno scolastico. Un bilancio poi per il primo anno di vita del Museo di Comunità della Festa del Grano. Ci prestiamo a spegnere la prima candelina. Abbiamo inaugurato il 19 luglio del 2015 e un bilancio più che positivo. Abbiamo avuto un boom di presenze, tanta tanta gente da tutte le parti del mondo. Dico del mondo proprio perché c'è stata gente che è venuta dalla Spagna, cinesi, inglesi, insomma, e molta gente anche dalla regione molise. L'entusiasmo, l'impegno e l'attesa per la festa sono i protagonisti in questi giorni per le strade di Yeltsi. Il confronto tra le generazioni, le preghiere per Sant'Anna e il sorriso dei più piccoli scandiscono le giornate tra fede, festa e devozione. Riprende questa sera la rassegna musicale Jets in Campo, Jets in Galdo come da programmazione alle 21 in Piazza della Rimembranza. Campo di Pietra apre Antonio Pascuzzo e il suo sestetto con sonorità etniche e ritmi della tradizione gipsi con il progetto Pascusce. A seguire una grande prima per il Molise che ospita il trombettista Enrico Rava sarà affiancato dal suo New Quartet. È tutto, termina qui il nostro TG delle 14. Dopo la sigla le previsioni meteo. Grazie per averci seguito e arrivederci.